Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano, puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me. Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram, onemoretimepodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso un link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Mi piacerebbe riuscire ad essere quello che Piero Angelo è stato per la scienza, essere per la scuola, ispirare un cambiamento gentile, dal basso, vero, perché la scuola lo merita, perché la scuola è fatta da tante persone che fanno un mestiere molto importante, fanno un mestiere molto delicato, lo fanno con quattro soldi in mezzo a tutta una serie di problemi. Non meritano di continuare ad essere una scuola schiacciata, burocratica, triste, monotematica, che va sempre in una direzione, che non riesce a dare il vero cambiamento. Mi piacerebbe ispirarlo quel cambiamento, gentilmente, dal basso, perché so che molti colleghi la desiderano questa cosa, capito? Lo vogliono questo cambiamento. Alzare la sua direzione, sai che bello? Come diventerebbe bello all'interno di una scuola, lo cambierebbe veramente tutto. Però questo avverrà piano piano e io sogno che questo possa venire. Faccio una premessa, la faccio sempre per contestualizzare il motivo per cui sei qui. Sì. Io ho dei figli, sono un padre, quindi i miei figli studiano. Mia figlia ha 20 anni, fa il terzo anno di università, ne ha quasi 21, e l'altro ha 8 anni e fa la terza elementare. La soglia dell'attenzione anche di noi adulti per via dei cellulari si è abbassata molto, no? Ma quella dei ragazzi spesso è alta quanto il pesciolino rosso Nemo, no? E quindi il fatto di avere un prof a scuola appassionato della sua materia, che parli facile e che faccia anche esempi pratici su una materia apparentemente difficile come la fisica, è molto bello. Cioè io quando vissi i tuoi contenuti ho detto io voglio assolutamente parlare con lui. Uno perché avevi il carisma e quindi incarnavi perfettamente l'interlocutore che volevo avere, due perché parli di istruzione, è molto importante, no? È la radice di tutti noi, cioè questo ci aiuta ad avere una vita migliore. Quindi fatta questa premessa così ho contestualizzato per chi non ti conosce di che mondo tu fai parte, partiamo dall'inizio. Hai già visto One More Time? Sì. Ok, quindi più o meno conosci, sai che tra poco scenderemo di piano fino ad andare almeno tre e cercheremo di andare un po' deep. Quindi quando nasci, dove nasci, in che contesto familiare e poi dopo seguo il tuo flow, e apro delle parentesi. Allora io nasco a Como, questa è già una cosa che insomma risulta un po' strana perché molti pensano io sia nato in Puglia, però da due genitori pugliesi, assolutamente pugliesi. Doc. Doc, esatto. In quei periodi, gli anni settanta, molto spesso si emigrava per cercare lavoro mamma da insegnante. lo ha fatto e papà da impiegato lo ha fatto perché Ivrea rappresentava il centro del mondo per una grande azienda italiana chiamata Olivetti. Lui ha cominciato lì a lavorare, la sua carriera è nata là. Papà era perito elettronico. Mamma invece ha fatto tutto un suo percorso da artista. Capisci? Il DNA. Cominciava a capire il DNA, esatto, da artista studiando arte, facendo poi il magistero a Napoli, probabilmente proiettata mentalmente verso una vita che sarebbe stata differente da quella che ha fatto. Cioè mamma non è partita come me con l'idea di voler fare la prof. Lei voleva fare la ceramista. Voleva lavorare, infatti poteva probabilmente, avrebbe potuto lavorare come ceramista, come maestro ceramista. Poi la situazione è cambiata perché naturalmente erano anni in cui anche gli insegnanti erano richiesti. Lei ha detto perché no. Mentalmente le piaceva l'idea, ma non era una cosa così istintiva come invece è stata la mia, il sentire di. E quindi a quel punto lei è andata a Milano, a Como, ha cominciato a lavorare in un paesino chiamato Chiasso. Certo. E' al confine proprio in Dogana, vicino a Dogana. Esatto. E ha detto sposerò un uomo del nord. E invece ha trovato uno che ha trovato a Chiasso, uno che Puglia abitava a 4 km del paese suo, Castellano e Putignano. Quindi si sono conosciuti, io sono andato su a Como il 7 marzo, il giorno di nascita di Alessandro Manzoni. Questa è una cosa importante. Alessandro Manzoni che apre Promessi Sposi con quel ramo del lago di Como che volge a mezzo a Giano. Quindi questo è un po' il Vincenzo che nasce. Mi chiedevi del mio contesto, il contesto familiare. Quanto tempo sei rimasto a Como? Poco, 4 anni. Ma tuo papà lavorava a Ivrea in provincia di Torino, quindi faceva la spola a Como e Ivrea tutti i giorni, ma non è poco. Lui faceva la spola. Ora non ricordo se ha lavorato sempre, da sempre ad Ivrea però. Lui ha lavorato per un grosso periodo di Ivrea. Poi ci siamo trasferiti e abbiamo vissuto a guanzate, ora non fosse geograficamente magari. Poco perché poi mamma ha provato a chiedere il trasferimento giù per continuare a insegnare e lo ha ottenuto. Nello stesso periodo, nel giro di sei mesi, papà è stato trasferito dall'Olivetti di Ivrea all'Olivetti di Bari e quindi sono scesi. Io avevo 4 anni ed è nato mio fratello. Ok, quindi siete due fratelli. Sì. Maggiore tu di 4 anni. E com'è la vita? Cioè nel senso non hai ovviamente un comparativo con Como perché non ne hai memoria. In realtà quando io ci torno a Como, ci tornavo, tornavo molto più spesso prima, ci tornerò tra l'altro per un evento. Ok. È un paese chiaramente molto diverso, è un contesto molto diverso, però c'è una cosa che a Como c'è anche nel paese in cui vivo. Oggi l'acqua. Lì c'è il lago, a Monopoli c'è il mare. E chissà perché per me l'acqua è stata sempre molto importante. C'è un elemento di energia incredibile. La domanda che faccio a tutti, la più ricorrente, è come rimesso a coccole, che sembra un hashtag, un claim, invece è una cosa molto importante, no? Per l'impatto che può avere nella vita adulta, per potere anche tu essere aperto all'amore, al contatto fisico col prossimo. Come hai rimesso tu a coccole con i tuoi genitori? Bene, perché i miei genitori mi hanno voluto un bene pazzesco, mi vogliono tuttora un bene pazzesco e mi cercano molto più ora, però non ci sono mai purtroppo. E così mamma è sempre stata molto molto affettuosa. Quando eravamo piccoli, descrivendo quella situazione di infanzia, se vuoi, con mio fratello Francesco, sì. Quindi papà meno presente con le coccole, ma perché? Perché era meno presente a casa. Papà tornava tardi la sera, però papà quando tornava era sempre con noi, cioè giocava con noi, stava con noi. Ed era meno presente con le coccole perché è una persona meno portata a… cioè mentre mamma tuttora, quando io la vedo, lei si vede che si avvicina, ti vuole toccare, ti vuole abbracciare. E se io sto girato, non mi avvicino, perché sono un po' lunatico. Mentre papà è sempre stato più distaccato come persona, nonostante nutra un amore infinito per me e mio fratello. Raccontami la tua infanzia, nel senso come si svolge, in che contesto, i tuoi primi amori, prima di arrivare alla scelta di vita, il segno, lì sei grande. Parliamo del bambino e dell'adolescente. È stato un periodo in cui Vincenzo si è salvato tanto per la sua capacità di comunicare, di essere amico, l'amico di tutti. Io sono sempre stato molto estroverso, non so se si nota sta cosa. Sì, è l'argento vivo. Esatto, quella cosa c'è sempre stata. L'hai sempre avuto. Ed è stata una fortuna per me. Perché questa cosa mi ha salvato da tutta una serie di paure, malinconie, che ho vissuto specialmente durante il periodo dell'adolescenza. Perché tutto sommato io sono stato alla fine un bambino, parlo delle elementari e quindi anche le scuole medie, tranquillo come tutti gli altri. Quando poi arrivi in quel momento, a quel periodo, ecco perché io da docente sento molto di dover comunicare con i ragazzi e con i genitori, con le famiglie. Io ho vissuto tutta una serie di dubbi miei interiori. Erano anni diversi, no? La sessualità si viveva in maniera differente e molto diversa da oggi. E quel fatto di essere estroverso mi ha salvato. Perché tutto sommato io mascheravo le mie paure, i miei dubbi, le mie incertezze, l'essere... Il sentirmi diverso lo mascheravo con... Ma sì, facciamo casino. Gli amici miei mi ricordi, ma tu sei sempre allegro. Fuori. Infatti volevo farti questa domanda perché ci sono dei caratteri di persone che si conoscono, che io conosco, che sono incredibilmente solari e anche nei momenti più difficili nulla li sconfigge emotivamente o almeno apparentemente, no? E quindi tu dici, ma sai cos'è la tristezza? Ci sono dei momenti di down per te perché sembra che non esistano per loro. È come un comico che all'esterno è super simpatico e dentro magari è più incupito, è più chiuso, è più triste. Voglio capire tu, che hai questa energia, che sei un sole magnifico, come reagisci alla malinconia e ai momenti brutti? Come li vivi? Male. Malissimo. Perché sì. Perché io sono, come tutti gli esseri umani, ho tanti colori. Ti isoli quando succede o riesci a condividere? Cioè, come sei? Mi isolo, sì. Sì, tendo ad isolarmi, tendo a chiudere le orecchie e gli occhi. Infatti, quando io parlo nei miei video del venerdì di questo, cioè della solitudine, delle insicurezze e le fragilità che abbiamo dentro, io lo dico durante i video del venerdì. Guardate che ragazzi, questi video servono innanzitutto a me. Sto facendo una specie di terapia da solo, tirando fuori quelle che sono le mie fragilità. Perché io nei momenti down sono molto fragile. Sono molto fragile, chiudo le orecchie, non ascolto e sbaglio, me ne rendo conto che sbaglio, però sì. Mi fai un esempio concreto se lo ricordi? Le mie fragilità vengono fuori anche dal non riuscire a percepire quando con qualcosa bisogna dare grosso peso oppure no. A volte non riesco a distinguere e questa è una caratteristica di noi esseri umani. Ci mostriamo sicuri e questa sicurezza è bella perché gli altri trasmette molto, però qui abbiamo questi momenti down. Tu mi chiedi di fare un esempio. Soprattutto quando sono stato attaccato, quando mi è capitato di essere stato attaccato in rete da alcuni colleghi, da alcuni docenti, anche essendo cosciente che quei docenti rappresentavano lo 0,0001% di tutti quelli che mi guardano e che invece mi ammirano, dentro di me è nata una sorta di malinconia. Ho detto ma perché? Cioè perché devono parlare male di me? Perché devono dire male di un prof che poi alla fine, voglio dire, sta mostrando il bello di questo mestiere? Ecco, vado in crash, vado in cortocircuito e Francesco che mi è accanto mi dice ma perché guardi quello 0,1%? Perché non apri gli occhi e non ammiri tutte le persone che ti amano? Però in quel momento non è il non ammirare il 99,9% è andare in cortocircuito e quindi è un momento in cui tu ti chiudi. Stai facendo riferimento al tuo video più popolare che la gente può trovare in rete su YouTube che io ho visto e ti ho conosciuto proprio da quel video lì, è normale che tu guardi lo 0,1% perché quando si è abituati, si ha un carattere solare come il tuo e si è abituato a ricevere appunto energia positiva del bello, fa tanta differenza quando abbiamo anche una critica su mille quella critica ci entra dentro e voglio capire come la pulisci quella cosa? Nel senso ti ferisce? Stai male? E poi? Come gestisci? Come reagisci? Poi arriva la fase B, continuo a guardare avanti perché mi dico e mi dice Francesco e mi dice mamma e mi dice papà, guarda alla bellezza che hai dentro, guarda quanto la gente ti ama e ti è vicina perché io poi ho manifestazioni d'affetto, continuo da parte delle persone, cioè io continuo a vivere come un bambino il fatto che mi fermino per fare un selfie, cioè io continuo a andare e mi dicono ma quanta pazienza mi dicono hai, ma come faccio? Perché mi sta arrivando amore in quel momento. Quindi te la godi? Sì, sì, me la godi. Te la vivi bene? Cioè è chiaro che, attenzione, noi esseri umani è giusto per noi passare attraverso una fase di cortocircuito, quello ci sta perché siamo umani per questo. Quella cosa ci deve fare, elaborare ancora una volta il percorso che stiamo facendo. Molto spesso anche lo stare male ci dà nuove energie, è come se ci fa risorgere, come se ci fa ricrescere, ricominciamo, perché poi la vita è fatta da tanti colori, è fatta anche da queste negatività che sono condite dall'essere una persona di successo, cioè più tu cresci più sei ammirato, sei guardato dalle persone, sei seguito da milioni di persone ed è normale che il vento sferza sempre più forte. Mi ricordo Vladimir Luxuri, eravamo insieme un po' di mesi fa, disse Vincenzo, Vladimir che ne ha passate tante. L'ho intervistato. Quando ne ha passate, e che persona forte che è. E molto intelligente. Molto, moltissimo. Persona di gran cultura. Mettiti nei panni di lei che ha vissuto il cambiamento di se stessa e il voler portarsi avanti attraverso questo processo meraviglioso in anni in cui, madonna me, in un paese che si chiamava Foggia, che è un paese del meridione, è un paese che come tutti i paesi del meridione al tempo, non solo Foggia, tanti paesi del meridione, particolarmente, erano molto chiusi. Vladimir è andato avanti. Allora quel pomeriggio me lo diceva, diceva Vincenzo, ricordatelo, più in alto vai, più il vento sferza. Però è importante mostrare la propria costante elastica al vento. Parliamo della legge di Huck. Una bella costante elastica, non troppo alta. Oscillare, ma non spezzarsi. Che studente eri. Ah, questo è bello, questo è bello. Allora, tu che pensi? Che studente ero? Vediamo. Mi fai secchione, mi fai... Diciamo che sarebbe figo per tutti, perché si potrebbero immedesimare più facilmente, che tu non lo sia stato per niente e poi dopo hai sovvertito completamente le sorti del tuo destino e sei diventato un prof, quindi vuol dire che, insomma, si può fare. Poi se mi dici che eri un secchione, allora la meta è più complicata. Trazzi tutto diciamolo che quando vedete davanti a voi un prof, quello non è stato uno studente modello. Io sono stato uno studente in classe molto attento. Io non mi facevo sfuggire niente perché conoscevo il potere della grandezza fisica più importante nella nostra vita, il tempo. Einstein ha fatto del tempo il centro nevralgico dei suoi pensieri e su quello ha costruito la relatività. Ma noi esseri umani, se prendiamo coscienza che il tempo e il valore è la grandezza fisica più importante, allora riusciamo a sfruttare bene i tempi della nostra vita. Ero uno studente molto concentrato in classe, molto attento, non mi doveva sfuggire niente. Quindi appunti precisi, queste cose poi le dico nei video, appunti precisi, eccetera eccetera, se non capivo alzavo la mano. Quando hai cominciato ad avere questo metodo e questa disciplina di ascolto? Diciamo dalla terza media in poi, seconda terza media in poi, perché poi lì prendevo coscienza del mondo che mi stava girando intorno. Io studiavo anche violino sin dalle scuole medie, facevo il corso musicale ad indirizzo, sperimentare l'inizio musicale. Poi ho cominciato a fare il conservatorio al liceo e ho detto qua non mi acchiappo più. Cioè se non mi metto dritto in classe, ma è una cosa che viene istintivamente perché tu comprendi a un certo punto che il ritmo ad alzare il livello di concentrazione, quello che tu dicevi all'inizio quando abbiamo aperto la nostra chiacchierata, tu comprendi che stai creando solo vantaggi per te stesso ed è importante dire questo ai ragazzi. Non è il metodo di studio che rivoluziona la tua vita, ma è la gestione del tempo che rivoluziona la tua vita. Se tu fai metà del lavoro in classe, poi viene il priscio, perché capisci quante cose in più puoi fare. Puoi crescere, puoi dedicarti anche ad altro, facendo il conservatorio costretto. Parliamo dei voti invece, perché ti dico anche dei voti che studente sono stato. Sono stato uno studente soprattutto fino al secondo anno di scuola superiore alta allenante. Infatti io il secondo anno pagella del primo quadrimestre, mio padre mi ha detto che facciamo? Che devi essere bocciato quest'anno? Perché io avevo, ti dico le materie insufficienti, avevo quattro in francese, cinque in matematica, cinque in latino, quattro o cinque non mi ricordo, educazione fisica, cinque educazione fisica, mi è venuto un trauma per una cosa, eccetera eccetera. Le altre materie erano sufficienti, questa è stata la pagina del secondo anno, ma poi la gestione del tempo, il maturare, il cambiare come persona, il capire quanto puoi risuonare con te stesso e quanto puoi dare. E di lì è stato un percorso non così esponenziale. Poi mi sono diplomato col Massimo, a scuola ho preso fisica, eccetera. Però per dire, all'inizio sono stato uno studente, anche per quanto riguarda i voti, così così. Ma per avere questo switch, dalla seconda a terza liceo, ci sono i tuoi genitori che hanno contribuito, ti hanno impartito una disciplina diversa, cosa è successo? Allora, sono successe tre cose fondamentalmente. La prima, i genitori, loro mi sono sempre stati accanto in questi momenti di fragilità, non hanno interpretato mai il voto come tu hai preso quattro perché sei deficiente, perché non capisci niente, non sei portato. No, non hanno interpretato in questa maniera. Loro mi hanno detto, intanto stai andando male e sappi che sabato prossimo non esci. E lì la soglia di attenzione si alza. Sabato prossimo non esci, rimani in casa, perché devi studiare. Poi però mi hanno detto, di cosa hai bisogno? Parliamone, hai bisogno di fare delle lezioni, facciamone le lezioni. Ci sono stati aperti. Sì, molto aperti. Loro parlavano continuamente con me e devo dire la verità, io ero molto ricettivo anche da questo punto di vista. Cioè io ho sempre amato il dialogo con loro, che a un certo punto si è spezzato. Però io l'ho amato questo dialogo con loro, che ha avuto una crepa in un certo momento, no? Però tu sai quel proverbio cinese, c'è quella storia di questo vaso con le crepe. Le crepe devono avvenire perché ci devi mettere dentro del collante. Se quel collante è color oro, mamma mia, il vaso sembra ancora più bello. Ne parliamo tra un attimo. Erano molto aperti con me. Prima cosa che si è verificata è stata questa. Cioè loro lavoravano su di me cercando continuamente il dialogo, però mantenendo una certa disciplina. Cioè se stai andando male, intanto ti godi meno la vita e ti metti a studiare. Uno. Due. La seconda cosa che è successa. Ti dicevo della mia attività di concentrazione. Cioè io dalla seconda terza media cominciavo a comprendere che dovevo lavorare bene su me e lavorare espandendo la mia capacità di gestire il tempo. Questa non è una cosa però che viene subito. L'avere iniziato il conservatorio chiaramente creava dentro di me dei buchi. Ogni tanto cedevo su un compito. Non è facile fare compiti in classe di diverse materie alle scuole superiori. Non è facile andare bene in tutto. Ti prego, vi prego. Questa è una cosa importante. Quindi io comunque miglioravo il mio livello di studio. E terzo, ho cercato sempre di essere rilassato sui risultati. Io. Io mi dicevo rilassati. Piano piano. Cioè più che altro non pensare a sto 4,5 che hai preso sui radicali. Guarda il compito dopo che devi fare. Nonostante non tutti i professori mi dicevano, vabbè hai preso 4,5, non ti preoccupare la prossima volta andrà meglio che è quello che si dovrebbe dire ragazzi. Impegnatevi perché andrete meglio la prossima volta. A quel 4,5 vi muoverete, arriverete a 6, 7, 8. Quindi me lo sono autoimpartito. Tu dici senza la condanna perché poi rischia di traumatizzare il ragazzo. Più che traumatizzare dipende da chi si ha di fronte. Condizionarlo se è fragile. Se si è una persona molto fragile la condizioni. Chi è molto fragile la condizioni. Io non avendo questa fragilità da quel punto di vista perché ero fragile in altre cose. Allora io lì mi sono la terza cosa è stata autoimpartirmi il vai avanti. Vai avanti. E che cavolo uscirai pure da questa situazione. E poi chissà perché tra un lavorare bene, un essere ben supportato, il parlare sempre a casa eccetera eccetera e riuscire a guardare avanti. Non sta a pensare troppo a sto 6, a sto 4, a sto 5, a sto 8. Chissà perché poi everything went into place, no? Come dicono gli inglesi. Ogni cosa è andata al suo posto. È successo proprio quello in quegli anni di adolescenza, in quegli anni di studio. Le crepe con i tuoi genitori perché? Beh le crepe sono arrivate un po' per quello che ti raccontavo, cioè della mia sessualità. Ok. È successo perché doveva succedere. Perché erano anni in cui non era facile parlare di quello. Quindi mettiamolo subito in chiaro. I miei genitori hanno reagito esattamente come avrebbero dovuto reagire. Spaventandosi per me, perché quando un figlio ti dice sono gay, te lo dici a che età? 19 anni. Ok. Avevo 19 anni. Beh comunque grande, adulto. Sì, abbastanza grande perché io fino a quel momento ho tribolato dentro di me, ho vissuto questa situazione un po' cercando di capire. Perché poi tu quando sei un adolescente e vedi tutti i tuoi amici che si fidanzano con le ragazze, eppure tu ti puoi fidanzare con la ragazza. L'hai fatto? Sì, certo. Io andavo cercando le ragazze, andavo cercando il contatto con loro. Era un ragazzo molto magro, parliamo di fisicità. Io sono magro, però ero molto più magro. Toglimi i 20 chili, ok? Io non avevo un rapporto difficile col cibo, semplicemente, poi abbiamo scoperto banalmente, io ero disordinato nella colazione. Cosa invece molto importante, fare colazione è il primo pasto, bisogna sempre farla in maniera completa. Quindi ero di costituzione molto magro, perché papà quando era piccolo era magro, c'è la fine a costituzione. Quindi non ero neanche così bello. Ora so bellissimo. Amarsi e piacersi è incredibile. Madonna ragazzi, quanto so bello. Non ero cosciente della mia bellezza, perché bello ero. Ero bello anche a quel tempo, non lo vedevo, non lo sapevo. Quindi mi sentivo da un punto di vista sessuale molto isolato, perché non riuscivo a cercare quel contatto che forse avrei voluto avere con una persona che mi attraeva, non riuscivo ad averlo nelle ragazze, ma lo cercavo, perché naturalmente, è chiaro, tutte quante si fidanzano, fidanzati pure tu. Era una specie di gara, no? Quindi quando poi ho sentito il bisogno di parlare con loro, te lo dicevo, io parlavo sempre con loro. A quel punto qualcosa è completamente cambiato. Ma cosa gli hai detto in quel momento? Io l'ho detto chiaramente, a me piacciono i ragazzi, sono gay, quindi questa cosa è stata, cioè il dire questa cosa in maniera… Ad entrambi l'hai detto? Sì, sì. Ci siamo seduti una sera. Beh, è bello, perché tu sapevi di avere la complicità da parte loro di poter parlare di tutto, però hai sentito un cortocircuito. Come hanno reagito? Perché loro non erano pronti. Certo. Non erano pronti. Cioè, quello non era il momento di… Non lo so, allora, sai quando si dice col senno di poi? Forse col senno di poi avrei aspettato. Avrei aspettato il momento in cui… Beh, non sarebbero stati pronti neanche dopo. Non lo so, non lo so. Però sai, poi… Io in quel momento, per esempio, ero solo, non avevo un compagno. Che compagno? Io ancora stavo uscendo. È come se io, volendo uscire dal mio guscio. Lo volevo fare con loro, prima di tutto. Volevi avere l'approvazione. Io volevo avere la loro approvazione in questa cosa, sì. E invece loro cosa hanno detto? E allora, intanto, cioè, è stato preso in maniera traumatica. Papà ha rifiutato la cosa in un primo momento. Papà ha anche pensato razionalmente, forse dobbiamo farti parlare con qualcuno. Perché, ripeto, torniamo indietro nel tempo. 20 anni, nel 1996. Maria De Filippi non parlava ancora ad amici di omosessualità. E guarda che quello è stato un momento importante. Quando lei ad amici, perché amici non erano a gara tra artisti prima, erano un cerchio di persone bellissime, che parlavano. Lei ancora non parlava. La televisione non parlava di questo. Nessuno parlava di questo. Quindi immagina una famiglia che cosa può succedere. Allora, la prima reazione loro è stata di scompettare. Che ho fatto? È colpa mia. Hanno cominciato a pensare quello. Normale, normalissimo. La seconda reazione è stata facciamo in modo che tu possa parlare con qualcuno. Su questa frase ti voglio chiedere una cosa, perché la sento dire spesso, nel senso, nel corso della mia vita l'ho sentito dire spesso. Qualcuno chi? Cioè, quando uno dice andiamo da qualcuno, chi è quel qualcuno? Potrebbe essere, per esempio, uno psicologo, come è stato nel caso mio. Perché si ritiene uno psicologo una persona che può essere esperta nel dare una lettura, nel dire vostro figlio sta attraversando una fase. Io mi sono fatto una chiacchierata, eccetera, eccetera, ma sta attraversando una fase. È un'autodifesa che un genitore mette. Siete andati voi tre dallo psicologo? Sono andato io e poi loro, nelle ultime sedute, sono state anche con me. A me è fatto molto piacere. Per dirti, capito, nonostante questo crack che si è creato, perché si è creato un crack, perché loro non mi guardavano più come il Vincenzo bravo, che fa il suo dovere, che è in gamba, che cresce, eccetera. È come se quella cosa stesse adombrando tutto e il resto. Ma io ripeto, ti dico questa cosa, io l'ho capita questa cosa, io l'ho avvertita come, io dicevo dentro di me, dicevo devi essere forte. Ma lo psicologo che lavoro ha fatto? Vi ha uniti? No, ti dico quello che alla fine ha detto lo psicologo. Per dirti che il mondo in quel momento, neanche quello degli psicologi, era preparato. Ma anche il mondo dei psicologi era preparato. Lui che cosa ha detto alla fine di queste sedute? Ha detto a me. Vabbè Vincenzo, che ti devo dire? Si vede insomma che tu ormai hai preso coscienza della tua natura e quindi è giusto che tu, se senti il bisogno di mettere un rossetto o una gonna, lo possa fare in tutta libertà. Io ho detto com'è? Che vuol dire? Io non ho detto che non sento la mia identità di uomo. Io mi sento, cioè ho dovuto fare io la seduta psicologica a lui. A quel punto ho fatto io lo psicologo per lui, spiegandogli che io semplicemente sono attratto dagli uomini ma non mi sento donna. È un altro discorso. Ora, vedi oggi, oggi si parla di non-binary, di transgender. C'è molta più cultura. C'è molta più cultura. Informazione. C'è molta più informazione. Attenzione però continua la discriminazione. Non pensiamo mai che solo per il fatto che se ne parla… Sì, però il dato è migliorato. Esatto. Prima c'era una grande confusione anche da quel punto di vista e questa è stata una cosa molto… Io in quel momento, ripeto, dato il mio carattere forte, meno male, mi rendevo conto solo di una cosa. Semplicemente che il mondo intorno a me non era preparato. E allora niente, io ho continuato con la mia vita. L'unica mia preoccupazione in quel momento però era ricostruire il rapporto con loro. Ma quindi quello che ha risolto tutto è il famoso argomento di cui parlavamo prima, il tempo. È il tempo che vi ha permesso di riunirvi con la stessa complicità di sempre? Ti racconto una cosa. Vai. Troppo è un po' difficile raccontartela. Allora, al settantesimo compleanno di mio padre, ovvero due anni fa, eravamo a Madrid, in questa casa che mio fratello aveva finito, dittato per questa settimana, siamo stati tutti insieme a festeggiare e eravamo seduti dopo cena. Francesco, mio fratello, ha preso la parola dicendo papà mi dispiace del fatto che io vivo in Spagna, mio fratello vive in Spagna da tanto tempo, che non vivo con voi, non viviamo con voi, non stiamo insieme, vi godiamo poco. Però tu sei sempre stato una figura importantissima per me, eccetera. Si è messo a piangere mio fratello. A quel punto, niente, papà si è messo a piangere mio fratello, ha preso la parola e ha detto io vorrei concludere questo compleanno con delle scuse. Devo chiedere scusa a Vincenzo perché non l'avevo, non ero pronto in quel momento ad affrontare tutto quello che era successo, quello che lui era. Però poi, dopo che lui ci ha parlato, io ho cominciato a leggere, a capire che cos'era questa sessualità differente. Io ho cominciato a leggere, a capire e ha detto a mio fratello, tu mi hai aiutato perché mio fratello, che era più piccolo di me, ha vissuto anche lui questo momento, questo trauma, questo terremoto che è successo. Però mio fratello li ha aiutati perché subito ha detto non perdete di vista Vincenzo, non lo perdete di vista Vincenzo perché non vi ha detto niente di brutto, però tu capisci, ripeto, quel livello, il mondo come era in quel momento, era molto diverso. Mi ha detto questo, cioè si è scusato, ha finito il suo compleanno scusandosi. Ovviamente io, che quella sera non ho pianto, perché piangevano tutti, ho detto è meglio che non piango io, stai fermo, non piangere. Gli ho detto grazie, l'ho ringraziato dicendogli anche che io sapevo bene, cioè io comunque lo guardavo in quegli anni e capivo che non era facile per lui. Cioè, è capito, in quello che è successo io ho interpretato il pensiero, il dolore, ma anche il dubbio di tutti i genitori che affrontano la vita dei propri figli. Sono passati 25 anni dal giorno in cui l'hai detto a quella sera del compleanno, due anni fa. Quando il tempo ha fatto in modo che tu potessi viverti liberamente, senza nasconderti, la tua sessualità? A che età? Ma diciamo innanzitutto che, secondo me, quello che è successo, non ce lo siamo mai raccontati in questi termini, però con papà, papà ha non accettato, la parola accettare è cambiato già qualche anno dopo. Io però sono sempre stato molto discreto per quanto riguarda la mia vita personale. Partiamo dal presupposto che, probabilmente, se fossi stato etero, io avrei vissuto la mia vita amorosa nella stessa maniera. A me avrebbe imbarazzato comunque sempre la ragazza portarla a casa per spiegarci. Poi ho cominciato a vivere per conto mio, con mio compagno, eccetera, eccetera. Con Francesco viviamo insieme da vent'anni. Lui ha però conosciuto Francesco, il mio compagno, esattamente al matrimonio di mio fratello. In quella occasione l'ha conosciuto per la prima volta. Ma come amico o come fidanzato? No, come compagno. A che età tu? Io avevo dieci anni fa, metti dieci anni fa. Però papà, io avvertivo già, quel cambiamento era già avvenuto da tempo, no? Quindi tu, però, passano sempre tanti anni dall'età di 19 fino a dieci anni fa, no? Semplicemente in questo caso… Non affrontavi più l'argomento. Sì, ma perché non ce n'era bisogno, perché io ero andato avanti con la mia vita. Quindi non avevi mai presentato l'amore della tua vita ai tuoi genitori perché neanche tua mamma o con tua mamma invece… No, 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 lo stesso, lo stesso. Innanzitutto per un motivo, per il fatto che appunto io non sono una persona che ha fidanzato, fidanzata, conosce, eccetera, eccetera, e la mia vita me la gestisco io. Adesso siamo più grandi, è già diverso. Non avevo neanche trovato la persona giusta, perché come tutti noi passiamo tanti anni della nostra vita… A scoprire. A scoprire, esatto, e quindi quando scopri non c'è la persona giusta, ma che te frega. Sì, tu non volevi fare la grande dichiarazione per poi farti vedere volubile… Esatto, esatto. Quando invece è arrivato quello che è il mio attuale compagno, che è una persona meravigliosa, è la mia salvezza fondamentalmente, perché Francesco insomma mette a posto tutta una serie di cose nella mia testa. A chi l'hai confidato la prima volta? Ai tuoi genitori o a tuo fratello? Tu stai tornando ai 19 anni? No, quella sera c'erano tutti in casa. Ah, anche tuo fratello? Eh sì, era adolescente. E poi tuo fratello, quando ha visto la reazione dei tuoi genitori… Mi ha difeso. …davanti a loro, ma poi quando siete rimasti da soli e è venuto da te, cioè come è andato? No, io non… Era piccolino, aveva 15… Era piccolo. Io in realtà tendevo a non parlarne con lui, perché io pensavo nella mia testa, forse è troppo piccolo, non lo so, cioè io non mi sono fatto troppe domande, ho cercato di vivere in maniera naturale, ovvero se lui mi avesse chiesto qualcosa avrei risposto. In realtà lui non entrava più di tanto nel merito con me, entrava con loro. In tua difesa. E invece quando hai conosciuto… Francesco si chiama il tuo compagno? Come tuo fratello? Sì, sono tutti Franceschi. Ok, quando hai conosciuto Francesco il tuo compagno, lo hai detto a tuo fratello? Gli l'hai confidato? Sì, 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 sì. Infatti Francesco mio fratello lo ha conosciuto per primo. Ok. Poi quando mio fratello è andato via, è andato prima a Milano, poi è andato a Dublino per alcuni anni, poi è andato in Spagna, ha conosciuto Sara, Sara ha conosciuto me e Francesco. Quando è arrivato il momento del matrimonio, mia cognata ha detto io voglio pure Francesco. Voglio pure Francesco al matrimonio. E da quel punto mio fratello ha detto sappi che Vincenzo verrà con il suo compagno. Mio padre ha detto. Mio padre che poi, ripeto, è geniale per questo mio padre. Capito? Perché alla fine è il vero padre che quando c'era da reagire in una certa maniera lo ha fatto, ma perché l'ha fatto per autodifesa nei miei confronti. Perché mio padre vuole bene a me. Cioè come se lui, capito, avesse vissuto in un primo momento la mia sfera sessuale come un mio, una mia possibile esposizione a cose brutte, a cose negative. Perché non conosceva, non sapeva. E quindi in quel momento ha reagito dicendo sì, qual è il problema? Cioè lì è cambiato qualcosa, qualche meccanismo, non so, non ti so dire. Parlando di matrimonio, dopo vent'anni tu ti sei sposato o no? Sì. In Italia? Sì. Quanto tempo fa? Perché non me l'hai detto. Cinque anni fa, 2018, 23, cinque anni fa. E i tuoi sono venuti? No, allora io e Francesco abbiamo vissuto il momento del matrimonio come un puro atto formale, perché vivevamo insieme da una vita. Cioè di burocrazia intendi? Burocrazia, anche se al momento, quando poi è successo tanto burocrazia, non è stata. Però abbiamo vissuto in maniera assolutamente, diciamo, formale, perché noi stavamo insieme da molto tempo. Quindi, essendo cambiata la legge, ci siamo detti. Però, o meglio, io mi sono detto, perché se arrivasse lui ti direbbe, ma io avrei evitato. Ti direbbe questo, te lo posso assicurare, che va ci sia scese. E niente, abbiamo vissuto in maniera formale, semplicemente perché ci siamo resi conto a un certo punto di essere io e lui, di crescere, di diventare sempre più adulti. abbiamo cominciato a vedere le prime rughe solcare il nostro volto, abbiamo detto, noi non possiamo essere degli estranei per la legge. Non è giusto questo. Non è bello. Noi abbiamo il nostro mondo, lo dobbiamo proteggere, perché è importante. Quindi quel passo è stato più un passo formale che, diciamo, alla fine di apparenza. infatti una, diciamo, cerimonia civile, che poi è stata quella che è stata fatta a Bari, assolutamente informale. Avevamo i nostri testimoni, Mario Donatella, Donatella venuta dal lavoro, vestita tranquillamente così. È stato in fondo bello viverlo così, anche se ci siamo messi a piangere come delle fontane tutti quanti, si è messa a piangere anche la celebrante. Però per dire, da un punto di vista delle emozioni, è stato un momento molto bello. Ti faccio una domanda, nel senso che io ovviamente ho una mia risposta personale, perché sto con mia moglie da più di vent'anni, ma voglio sapere com'è l'amore dopo vent'anni? C'è nel senso per far sì che sia ancora frizzantino, che sia ancora emozionante, che ti tenga ancora col fiato sospeso? Come funziona per voi? È fatto innanzitutto di sorprese continue, almeno da parte di uno dei due. Che io non sono… Che non sei tu? No, che non sono io, io ti faccio schifo da questo punto di vista. Invece Francesco… L'importante è che tu accolga bene quando è lui a farlo. No, ma lui lo sa benissimo, a me piacciono i regali, queste cose qua, sono molto romantico. E' innanzitutto questo, fatto di grande complicità, perché la coppia cambia, si evolve, la complicità è la cosa più bella all'interno di una coppia, e fatto di prendersi cura dell'altra persona, cioè entrare nel merito di quello che fa l'altra persona in silenzio, aiutarlo. Che bello vederti emozionare, perché sei un vulcane in eruzione di energia positiva, e non che tu non lo sia in questo momento, anzi tutt'altro è potentissimo il fatto di vedere una persona così umana, però mi piace questo contrasto. Vabbè, io quando parlo di Francesco non posso non piangere, insomma, non commuovermi. Sai perché mi capita? Mi capita perché quando poi senti, noi abbiamo fatto un evento, per la presentazione del mio primo libro, e la persona che ha organizzato questo evento ci ha raccontato di un matrimonio difficile, in cui sono successe cose brutte. Allora tu, capito, quando ti senti raccontare queste cose, le vediamo solo intorno a noi, i matrimoni, non è il matrimonio che fallisce, è giusto che fallisce, è giusto che arrivi al fallimento quando tutti e due prendono coscienza che ci si deve guardare intorno, perché la vita è una e non bisogna bloccare le proprie energie. Però quando un matrimonio diventa da oltre, diventa qualcosa di più forte, allora tu te lo dici, come sono fortunato, che bello quello che sto vivendo, come sono fortunato. Torno indietro alla maggiore età. Sì, fammi la domanda, cambia argomento. Entriamo in uno scenario, come dire, diverso, magari che ti dà delle emozioni differenti. Perché scegli di fare l'insegnante? Quando è che ti scatta quella cosa, quindi? Seconda, terza, liceo, uno switch. Disciplina, metodo, continui a studiare al Conservatorio Musica, perché poi tu sei anche direttore di coro. Certo, io mi sono diplomato in violino, in didattica musicale, poi laureato in fisica, certo, sì, sì, sì. Ok, quindi chiaramente dopo la maturità, l'università, ma quando scatta in te l'idea di voler insegnare? Allora, innanzitutto rappresentiamo una situazione. Vai. Quando mia madre tornava da scuola con il registro cartaceo, io aprivo sto registro e facevo finta di fare lezioni a casa. Già immaginati questa situazione, cioè una fissa, una vera e propria fissa. Poi quello che è accaduto è l'innamoramento all'università. Ok, non l'avevi previsto prima dell'università? No, perché io in realtà della fisica ero incuriosito, cioè la scelta poi del corso di laurea è stata un… ok, mi piacciono le facoltà scientifiche. A Bari, sì. Mi piacciono le facoltà scientifiche, quindi vorrei fare un corso di laurea scientifico. Mi attraeva fisica, mi attraeva matematica, medicina. Poi mi sono andato a fare una chiacchierata nei dipartimenti e sono rimasto molto colpito dal dipartimento di fisica. Ti faccio una domanda, ma per cavalcare quello che stai dicendo, perché molti giovani che si vogliono iscrivere all'università e sono dubbiosi su cosa fare, è un po' come la politica quando uno non sa di politica, magari vota per simpatia, cosa molto grave. Certo. E negli studi magari scegli un indirizzo, non avevi approfondito prima e ti ritrovi dopo un anno, un anno e mezzo, due anni, dove dici ma non è proprio il mio. Certo. E molli. Se ti convertono gli esami magari switchi da un'altra parte o se no molli completamente il percorso accademico, qual è un buon metodo, un buon modo, un consiglio per scegliere il proprio indirizzo quando si è a fine maturità? Quello che ti dicevo esattamente un attimo fa, cioè andare nei dipartimenti, entrare dentro i dipartimenti, guardare delle lezioni, andare a spiare delle lezioni, andare a parlare con qualcuno, parlare con gli studenti, rendersi conto delle vibes che ci sono in quel posto, perché quello ti dice tanto, ti sta già raccontando qualcosa che potrebbe avvenire un anno dopo, qualche mese dopo. A me è successo quello e quello è stato chiarificatore. Poi io lì mi sono proprio letteralmente innamorato dei docenti che c'erano là dentro. Ok. Persone… Ti piaceva l'approccio? Luca, estremamente carismatiche. Ok. Io avverti, mi arrivava addosso il carisma di quelle persone. Erano delle personalità, erano autorevoli, erano meravigliose. Gioveni? Non per forza. Sì, potevano, insomma sì, ho avuto insegnanti a fisica che potevano avere, gli esercitatori ad esempio, che avevano una quarantina d'anni, docenti di cattedra che ne avevano 55, non so più o meno, 55, ma tutti appassionati. Moltissimi, a fisica, io non lo so, sono stato fortunato, che ne so, intanto è stato un percorso molto duro, perché fisica è un corso di laurea di quelli, insomma, a Tostarelli. Io, insomma, all'inizio ho faticato, i primi due anni bisogna… ecco, altro consiglio che vorrei condividere con i prossimi studenti universitari, non vi fate spaventare dall'impatto che si ha quando si comincia a studiare all'università, anzi accogliete quei fallimenti, accogliete quel… venga la prossima volta, perché te lo devono dire, venga la prossima volta, e tu te sei fatto un mazza a studiare e devi tornare altri due mesi, devi studiare. Non vi fate… Scalfire. Ecco, scalfire da questo, perché lo dovete superare il primo anno, è molto importante all'università. Quindi queste figure carismatiche mi hanno fatto comprendere che intanto hanno rivestito ancora di più fascino quella materia. E poi la mia convinzione di voler essere un professore. Quindi quando io ho fatto l'ultimo anno di specializzazione… Quanti anni hai studiato per diventare insegnante? Allora, vabbè, io mi sono laureato in sei anni probabilmente, non so, ecco, diciamo… Era un quinquennio? No, era un quattro anni, perché prima il vecchio corso di laurea erano quattro anni. Forse ci avrò messo un paio d'anni in più, più o meno, insomma. Poi mi sono laureato, ho fatto la SIS, che è il corso di specializzazione per l'insegnamento, era il corso di specializzazione per l'insegnamento. Una professoressa, la professoressa Stella, un nome e una garanzia, bacio alla professoressa Stella, meravigliosa, mi diceva, e conosceva la mia attività da musicista, diceva tu sei anche un musicista, si vede che ti piace la materia, si vede che ti piace l'insegnamento, perché non prendi come specializzazione didattica e divulgazione? Perché a noi c'era questa specializzazione l'ultimo anno, quindi noi facevamo gli stessi esami i primi tre anni e poi gli ultimi cinque o sei, quindi pochissimi, ci differenziavano. Io ho preso quella specializzazione, eravamo in pochi e devo dire la verità, non eravamo neanche visti così di buon occhio, perché alla fine erano quelli che vogliono fare gli insegnanti. C'è paccato. E come mi è dispiaciuto essere visto così in quel momento, perché invece questo mestiere è un mestiere che si deve scegliere, perché lo devi sentire dentro, perché tu ancora studente universitario devi pensare, non vedo l'ora di spiegarle io queste cose. Se hai quel fuoco, allora vuol dire che vuoi fare l'insegnante. Quindi se metti questa fissa mia, diciamo da piccolo, e questo, aver avuto anche degli insegnanti che mi hanno illuminato, probabilmente poi quello ha condizionato tantissimo la mia scelta. perché io poi ero in anni in cui c'era una specie di salto da fare con il mio gruppo gospel. Io dirigevo questo gruppo gospel, noi eravamo bravi, siamo bravi, io lo dirigo tuttora, lo dirigo da 30 anni. Quindi qualcuno ci aveva adocchiato, qualcuno ci voleva far fare una cosina in più, eccetera, proprio questa è un'armata brancadeo, leone, immaginati, dieci cantanti, quattro musicisti dove li porti, anche con un prodotto musicale, il gospel in Italia, ma perché? Quindi io ero molto combattuto in quel periodo, che faccio? Cioè continuo con l'attività, comincio con l'attività di insegnamento o mi butto nella musica? Allora che cosa ho detto? Faccio tutte e due. Ebbè. Ce l'hai fatta? Ok, non sono diventato il musicista conosciuto, è vero, però quella parte artistica di Vincenzo sarebbe emersa in un'altra maniera. Assolutamente sì. Hai capito? C'è così, che se tu dentro quello che sei, se tu ci credi veramente, emerge, viene fuori, con tanti sacrifici, con tante porte in faccia, ma viene fuori. Io ti posso dire una cosa a proposito della parte artistica. Quando ero piccolo, io ero fissatissimo con Sanremo, fissatissimo. Nato il 7 marzo, te l'ho detto, Sanremo di solito fa febbraio. Io organizzavo alla festa del mio compleanno a casa, costringevo tutti i miei compagni di classe, ma questo dalle elementari. A cantare i pezzi di Sanremo. Facevo Sanremo, la festa di compleanno era Sanremo, ognuno di loro doveva cantare e gli invitati erano la giuria demoscopica. Ecco, vedi, c'era questa fissa in me, quell'arte. Allora, vedi, la componente artistica, la componente didattica, divulgativa che c'era, la componente scientifica, poi chissà perché noi esprimiamo chi siamo. Vengono fuori le nostre anime e mai dobbiamo pensare di essere one way, perché nessuno di noi è one way. Tutti noi abbiamo queste sette intelligenze che se assecondate, se educate, ci rendono delle persone ancora più di ampio respiro. Chi ci guarda la sente, questa cosa le arriva addosso. A che età cominci a insegnare? 27? 28? 29. Allora, io il primo contratto l'ho avuto con la scuola, appunto, come supplente. E infatti, dopo quanto tempo riesci ad ottenere, come dire, il tuo spazio per cominciare ad insegnare? Fortunatamente, immediatamente, perché per il tipo di classe di concorso, perché in realtà la nostra graduatoria non ce n'erano tanti che si aggiungevano ogni anno, quindi sono stato chiamato subito come supplente in provincia di Bari. Mi ricordo il mio primo anno di insegnamento a Molfetta, la bellissima città di Molfetta. Io vorrei che tu mi raccontassi il tuo primo giorno invece. E' bello. Come fate a prepararti? Niente, zero, zero, perché tu vai, perché la puoi fare quella cosa. Io mi ricordo di miei colleghi che dicevano, ma Vincenzo, non ti interessa sapere come si scrive una programmazione? Non ti interessa sapere come farai un consiglio di classe, quelli più grandi, capito, che avevano magari anni più di me. Io dicevo, no, perché penso di saperlo fare, nel senso che la prima volta mi scriverò la programmazione, la parola, ma mamma era così. Mamma come insegnante è stata sempre così. Così come te o così come loro, schematica? No, no, così, così. Che andava distinto. A distinto, ok. Nell'insegnamento, mamma è stata una che è andata sempre a distinto, una insegnante amatissima. Mamma insegnava educazione artistica. Cioè sarebbe disegno? Disegno, le scuole medie. E finita le scuole medie, non voglio dire, il 30% dei suoi studenti prendeva l'istituto d'arte. Ma quando mai? Che di solito uno finisce le scuole medie e va al liceo classico, al liceo scientifico, istituto d'arte, 3 su 10. E tanta roba, voglio dire, che trasmetteva passione. La amavano, proprio come insegnante. Però mamma, come me, era una che si rompeva le palle della burocrazia della scuola, si innervosiva di queste riunioni inutili che si facevano, si facevano, si facevano, si proprio così. E un'altra cosa, mamma, quando è arrivato il momento di finire quel percorso? Ha messo il zippo, ha terminato e ha continuato per la sua vita, per altre cose. Quando è andata in pensione, mamma, nel momento in cui è andata in pensione ha detto ora mi potrò godere la mia vita facendo i quadri, facendo palestra, viaggiando. Io ho un po' questa caratteristica. Io i progetti li porto avanti, ma quando sento che è la fine, che pianto il zippo e apro una nuova parentesi. Che tu anche adesso sei bravo perché riesci a far conciliare una terza anima, che è il mondo dei soci, il mondo dei contenuti. Adesso ci arriviamo, quindi avendo ridotto ad un part time, se non sbaglio, il tuo approccio con l'insegnamento, ti permette di fare tante cose con comitanti. Però aspetta, non bruciamo le tappe. Il primo giorno sei imbarazzato? Come uno che va su un palco a fare un discorso la prima volta. Com'era? No, è stato bellissimo, è stato eccitante, entusiasmante. Era una classe di tutti i ragazzi, erano di secondo anno, perché me la ricordo anche l'entrata in una seconda, tutti questi ragazzi che vedevano chiaramente questo professore già praticamente giovane, chiaramente 29 anni, insomma, è giovane, no? Subito, lavagna, gesso, lezione. Madonna, come ero contento. Eri felice. Felicissimo. Sapevi che avevi fatto la scelta giusta. Sai che sono uscito dalla classe sudato. Dall'emozione? Sì, io ero sudato. Perché avevo... Allora, noi emettiamo energia, facciamo questa lezione di fisica, diciamo, noi irradiamo energia. La terza forma di propagazione del calore è l'irraggiamento. Ogni oggetto irraggia calore. Che tipo di calore irraggiamo? I raggi infrarossi, i cosiddetti infrarossi, no? Se metti una mano vicino al viso, fallo, senti vicino alla tempia, tu senti, senti quel calore? Certo. Lo stiamo irradiando, perfetto. Io evidentemente ho irraggiato particolarmente forte quel giorno, perché ero sudato, non faceva manco caldo quel giorno, ma ricordo. Non faceva, ho preso il telefono, ho chiamato Francesco, ho chiamato mamma, che bellissimo, ero felice, ma vero come era con me? E facevo la strada a Monopoli-Molfetta, ogni giorno mi sparavo 140 chilometri, 70 all'andata, 70 al ritorno, con una felicità incredibile. E l'escursus qual è? Dei essere un supplente, ottieni la tua... Certo, ho tenuto la cattedra nel 2013, quindi sei anni dopo io sono entrato di ruolo, si dice, full-time naturalmente, e poi nel 2019 ho scelto di andare in part-time. Quando cominci con i social? Quegli anni, 2017, sì, 2018, io ho cominciato con la mia prima live di fisica nel 2017 in YouTube, perché gli studenti me l'hanno detto. Infatti volevo capire perché tu ti fossi cimentato nel mondo del contenuto sui social, se sentivi la necessità di divulgare il parlare facile per far appassionare, per convertire come tua madre, no? Tante persone all'ascolto, al fatto di perseguire anche quella strada, o perlomeno non, come dire, ripudiarla nel percorso di studio, cioè volevo capire il perché. E niente, perché io mi divertivo in classe, io ero contento e vedevo gli studenti che seguivano le... c'era silenzio in classe, ma non era un silenzio dovuto ad una severità di atteggiamento. Cioè avevo la mia professoressa di matematica, che bella professoressa, però era molto severa. Cioè non volava una mosca in classe. Quello che accadeva durante le mie lezioni era diverso. Il silenzio era di un... Di attenzione. Sì, voglio capire come va a finire, perché mi piace. Quindi a un certo punto, io avendo visto che sui social tutti mettevano tutto, a quel tempo era il tempo di Facebook, perché maggiormente quello andava come social... Chi ti ha ispirato? C'è un professore che usava già Facebook? No, 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 no. A me mi hanno ispirato le persone. Ok. Perché io vedevo le persone che condividevano in Facebook le brioche che si mangiavano a colazione, le loro gambe durante le vacanze, i monti, i co... I gattini. E io dicevo, i gattini. E io dicevo, è bella sta cosa. E mettevano like, like, commenti, ah brava, brava, anche io sono stato in quel posto. E io ho detto, un attimino, calmo. Forse c'è spazio per qualcosa di utile. Invece di condividere la brioche, condivido il secondo principio della dinamica. Ma a quel punto, per la mia vena artistica, io ho sempre sentito una tensione... Oddio, io sono nato nel 77, io sono figlio della TV, io sono cresciuto con la TV, te lo dicevo prima. Io ho sempre sentito una certa tensione, proprio emozione, nei confronti della TV. Ho anche sempre sognato di lavorare in TV, ma non come professore, come musicista. Torniamo al discorso di prima. Allora a un certo punto ho detto, sai che c'è? Io inizio a fare delle live, cioè delle lezioni di fisica, come se fosse un programma televisivo. Cioè, nella mia testa non mi sono detto propriamente questo, ho sentito questo. Quindi ho acceso il mio telefonino, inesperto magari di quello che dovevo fare, guardando la telecamera, sempre. Bene, ciao a tutti, buon pomeriggio, cominciamo con questa lezione sull'energia. E giravo la fotocamera, io facevo durante la live, e giravo la fotocamera da me al tablet, scrivevo, da me al foglio, foglio, tablet, eccetera. Quindi ho cominciato questo linguaggio, questa trasmissione, se vuoi, ogni santo martedì alle 17 sul canale YouTube, la fisica che ci piace, dove imparare fisica è un gioco da ragazzi e poi è diventato un jingle che mi sono inventato dopo, sempre. E questa platea, io costringevo i miei ragazzi a seguire le lezioni. Dicevo, oggi pomeriggio? Io devo fare lezioni sul canale YouTube. E loro dicevano, eh no, io non posso, perché c'ho mia zia che si sentita male. E ho detto, domani interrogo. Allora quindi io così mi assicuravo, quella cinquantina di persone. Infatti ti avrei chiesto, quanti ce n'erano la prima volta? Ma sì, ce n'erano 50, 60, ma perché? Perché erano costretti. E perché hai perseverato? Cos'è che ti ha fatto? Perché ti piaceva? Perché mi piaceva. E poi per il passaparola dei tuoi studenti hai cominciato ad incrementare il numero, nel senso oggi su YouTube il tuo canale si chiama La Fisica che ci piace. Che ci piace. E hai un mezzo milione di iscritti. Sì, ed è la piattaforma più scarsa come numeri. Però hai un aggregato di due milioni e qualcosa sulle varie piattaforme. Fai anche quasi quattro. Però diciamo milioni di persone, sicuramente sì. Qual è stato il contenuto che ti ha fatto switchare? Perché poi siamo nell'epoca dello short content, quindi di contenuti brevi, sempre per il tema della soglia di attenzione. Poi una persona, come una puntata di One More Time, prima di ascoltare un'ora, un'ora e mezzo, si deve fidare, deve aver visto qualcosa di molto più breve. Infatti io lavoro molto con le clip. Certo. Prima che una persona ti dia questa attenzione, ci vuole un passaggio intermedio. Qual è stato il contenuto che ha cambiato le sorti dell'incremento dell'attenzione al tuo pubblico? È avvenuto non in YouTube. Non è venuto con un contenuto in YouTube, è avvenuto in TikTok. Sì, sì, infatti uno short content, quindi un clip. Esatto. Cioè io ho cominciato ad emergere con numeri grossi lì, perché in YouTube ho continuato a crescere in maniera organica, ma perché chi mi continuava a seguire erano gli studenti che spargevano la voce. Io cominciavo ad entrare nei gruppi WhatsApp durante la pandemia. Sai quanti professori, colleghi, ecco perché dico il 99%, ma vuole bene, condividevano i miei contenuti. Perché durante la pandemia, quei tre mesi, è successo il caos. È certo. Molti si sono trovati in una situazione, che facciano? Io invece già facevo contenuti da due anni. Quindi c'era un bel archivio a disposizione. Quindi hanno cominciato a condividere. Passaparola, gruppi WhatsApp, io però sono emerso con un contenuto, con dei contenuti corti in TikTok. L'ho cominciato a salire come un mago. Ma ti ricordi quale contenuto? Sì. Vai. Che non c'entra niente con fisica. Allora, una studente aveva fatto un contenuto volendomi ringraziare. Su TikTok ci sono naturalmente dei trend. Lei aveva seguito un trend con una canzone, prendeva il libro, lo sfogliava velocemente e poi a un certo punto ha detto grazie prof, perché grazie a lei io in fisica prendo otto, una cosa del genere. Si chiamasse Jasmine, una cosa del genere. Mi ha mandato un messaggio, un messenger, un messaggio online, un mio studente, mi ha detto prof, guardi, questa ragazza su TikTok ha fatto questo video. La ringrazia. La ringrazia. L'ha fatto, diciamo, qualche decina di migliaia di visualizzazioni. Lei? Allora, io che cosa ho fatto? Io che so, io so immediato, cioè quando vedo le cose, c'erano i duetti in TikTok. Certo. Pochi lo stavano sperimentando. Il duetto era molto spinto. Ho fatto il duetto e ho duettato questa cosa di lei che apriva il libro, eccetera, eccetera, con me, che entravo nella telecamera, guardavo la telecamera con sti capelli e con la lavagnata ce l'ha scritto grazie e l'ovvina. Quello è andato virale. Il mio profilo TikTok ha cominciato a salire, a salire, a salire, a salire, a salire, a salire. Poi da quello io ho cominciato a pensare beh, devo fare dei contenuti per TikTok e lì ho cercato di capire che tipo di contenuti avrei dovuto fare. Però di lì è stata proprio bam. Sei partito. Sì. E quando sei partito hai deciso di ridurre l'intensità di insegnamento frontale, quindi a scuola? Sì. E di passare ad un part-time. Part-time cosa vuol dire? Due giorni, tre giorni alla settimana? Cioè, com'è gestito il part-time a scuola? te lo gestisci tu perché in realtà c'è il part-time orizzontale e c'è quello verticale. Ok. Io insegno sei ore su diciotto, quindi ho un part-time veramente molto ridotto. Tu puoi decidere di fare quelle sei ore orizzontalmente distribuite anche su cinque giorni. ok? Perché c'è sempre un giorno libero oppure distribuite verticalmente. Io ho deciso di un verticale, quindi insegno solamente due giorni a scuola. Sempre quelli? Sempre quelli. Beh sì, l'orario scolastico e l'ora scolastico è quello. Io non ho ridotto le ore per i miei studenti, io sono ridotto le classi. Da avere sei classi ne ho due. La matematica, no? Un terzo di cattedra. Quando è che hai cominciato a generare un profitto per te il mondo dei contenuti? Io direi in maniera più sostanziale un anno e mezzo fa, poco più di un anno fa, perché in realtà succede una cosa con i contenuti. Molti pensano che la cosiddetta monetizzazione scatti subito e scatti in maniera importante. Lo diciamo, non è vero, perché devi crescere moltissimo nei numeri, ma moltissimo, quindi veramente ti deve piacere quello che stai facendo, se no ti fermi. quando cominci a monetizzare inizi piano, 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 e questa è una crescita lenta e anche lì non è che cambi molto. Poi rendiamoci conto, io non faccio contenuti di cucina, la cucina è molto guardata, io non faccio contenuti fashion, il fashion è molto guardato, io faccio lezioni, quindi è chiaro che io monetizzo, sì, ma non come potrebbe monetizzare per esempio un food influencer, perché tutti siamo passati alla ricetta, non tutti siamo passati a una lezione fisica. Sì, anche se la piattaforma dove monetizzi, perché molto del food oggi avviene soprattutto su Instagram, no? Perché io invece per esempio la piattaforma è YouTube. La piattaforma dove si monetizza di più in assoluto al mondo, tra quelle più note, quindi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, è in assoluto YouTube, tra l'altro YouTube nell'ultimo anno è molto premiante come CPM, traduco per non parlare difficile, il CPM è il cost per mille, quindi vuol dire ogni mille visualizzazione qual è come dire il ritorno pubblicitario in soldi che ti dà la piattaforma, quindi pubblicità erogata da Google, da YouTube e ne prendi una parte perché molte persone chiedono spesso come si monetizza. Normalmente i content creator monetizzano soprattutto in tre modi, dalla piattaforma stessa, dalle piattaforme stesse, dal branded content, quindi nel mondo brand che entra a parlare con la tua community attraverso i tuoi contenuti sulle piattaforme e attraverso il mondo delle appearance, degli eventi di vario genere, c'è chi va in discoteca, chi fa il centro commerciale, chi fa le convention e chi fa speech di altro tipo. Come monetizzi le tue… Tutte e tre. Ok. Assolutamente. Un esempio di brand che porti nel mondo dei tuoi contenuti? Allora, devono essere dei brand che devono avere a che fare in maniera diretta con delle lezioni, perché se io devo parlare di qualcosa io devo fare una lezione, perché un prof sono. Quindi l'energia? Benissimo l'energia. Io ad esempio ho fatto qualcosa in passato con un brand che appunto è nel mondo dell'energia e questo ha aperto completamente la mia mente, perché un'altra operazione che il docente deve fare, non solo il content creator, è collegare continuamente la sua materia a quello che accade nel mondo. Noi che insegniamo materia STEM dobbiamo parlare di fonti rinnovabili, dobbiamo parlare di idrogeno verde, dobbiamo parlare di elettrificazione, dobbiamo parlare di futuro, dobbiamo parlare di termico e di elettrico, perché quello che creerà il business dei ragazzi, i ragazzi finita la scuola dovranno aprire delle start-up e dovranno diventare imprenditori. Io ho un valore in più in questo momento, io sono un imprenditore e posso raccontare ai ragazzi quanto è dura essere un imprenditore. È un bellissimo valore aggiunto che si restituisce e si regala ai ragazzi. Per tornare alla domanda che mi facevi, io faccio tutte e tre le cose, cercando però sempre di mantenere quella linea in cui io non sono colui che ti deve fare la pubblicità, perché così non funziona. Non funziona così. Direi che non funziona mai quando una forzatura non converte. Esatto, non dovrebbe funzionare mai così. Deve essere molto attinente alla tua linea editoriale, quindi a quello di cui parli. diciamo che prima per esempio negli anni della televisione quando c'era solo la televisione non c'era la rete la pubblicità era sempre compra questo, compra quello, adesso è cambiato il modo di raccontarlo un prodotto perché il prodotto dietro di sé ha delle menti che lo creano, ha delle formule matematiche che lo rendono possibile, ha un processo di funzionamento. Io entro in quel merito. La persona che guarda quel video sta imparando qualcosa di quel prodotto mi ha colpito molto ti dico questa cosa bellissima sono stato in Irlanda e sono andato alla fabbrica della Guinness sono stato ma la figata non è stato bere la Guinness è stato imparare la fisica della birra perché in quel racconto che fanno in quel museo invito tutti ad andare a vederlo il museo ti raccontano i processi scientifici che sono dietro a quella che poi alla fine è la birra che ci beviamo ma che bravo cioè affascinante e le persone come erano felici di fare quel percorso che in quel caso non era un percorso didattico era un percorso più multimediale ecco io quello sto facendo con i brand tu continui quindi a fare il direttore di coro nella musica continui ad insegnare a scuola e continui in perterrito perché poi il mondo dei contenuti è day by day è quotidiano è intenso forse è quello che occupa nel volume del tempo la parte più grande se chiedessi al tuo fidanzato quanto tempo hai a disposizione cosa mi potrebbe rispondere nel senso hai sempre il telefono in mano sei sempre incasinato come sei messo da quel punto di vista così e mi odia per questo ok purtroppo sì c'è margine di miglioramento ci deve essere ok perché il tempo passa adesso ti sei buttata a capofitto chiaramente su questa cosa per cavalcarla anche però ci deve essere sì è chiaro sì va bene normale anche se io penso una cosa allora sì si cavalca no un momento in cui hai questa celebrità eccetera però io sono differente da altri content creator c'è chi nasce con un video che va virale e dice una parolaccia e tutti si mettono a ridere io non sono quello io sono un prof è chiaro e sono contenuti di sostanze io lo vedo nell'emozione dei genitori che quando mi trovano mi stringono le mani mi dicono prof continui sempre no ma lode a te che tu li fai quello che hai detto tu all'inizio che bene che stai facendo per i nostri figli quindi io intanto mi rendo conto di essere strutturato e sono felice di essere arrivato a questo se vogliamo chiamarlo successo a 46 anni perché mi sento più strutturato come persona io ho paura per i ragazzi che arrivano a avere milioni di followers a 17 a 18 anni te parte la testa completamente volevo tornare un secondo a tutte le cose che faccio perché ne manca una una cosa che ho fatto per la prima volta l'anno scorso che è andata benissimo e sono felice come docente di questo scrivi bravo Luca oh il libro la fisica il libro attenzione poniamo l'accento il libro l'ho visto in camerino in un 2023 in cui lo diciamo tu stavi parlando della poca concentrazione dei ragazzi vogliamo parlare anche della poca lettura vogliamo dire che questo è un peccato e non lo dico per il mio libro adesso non è un discorso di pubblico sentirmi dire dai librai professore quanti ragazzi stanno entrando nelle librerie a comprare quanti bambini un'altra cosa stranissima hai firmacopie 3 su 10 sono bambini ma bambini intendo 8 anni 7 anni allora di lì questo percorso bellissimo di aver scritto un primo libro dedicato alla fisica adesso Luca mi porta lo posso dire perché oggi ormai è nato il mio secondo libro che si chiama ci vuole un fisico bestiale fantastico dedicato ai fisici lì in la fisica che ci piace ho raccontato la fisica in ci vuole un fisico bestiale racconto la vita pop meravigliosa spericolata dei sette fisici che hanno cambiato la storia dell'umanità e sai perché sono contento di questo libro perché da questo libro emerge il fatto che quei fisici erano persone fragili come noi hanno vissuto tanti momenti down come noi ecco perché se attraverso questo racconto di professore io potrò continuare a raccontare ragazzi insistete nella vostra vita dateci dentro acchiappate la vita però studiate preparatevi perché se Einstein è diventato Einstein e se Nikola Tesla ha immaginato un mondo che cento anni dopo riverbera del suo nome è perché lavoravano molto su se stessi perché si preparavano ti ho fatto una domanda prima su come scegliere l'indirizzo universitario te ne faccio una sulla lettura è molto vero che oggi si legge sempre di meno e tante volte magari nel percorso scolastico ti consigliano o comunque ti obbligano non amo molto questo termine di leggere certi titoli e questo ti va un po' di traverso e comincia a ripudiare un po' la lettura qual è un buon modo di introdurre un giovane alla lettura quali sono i libri che potrebbe scegliere per cominciare a fare petting con l'argomento e ad amarlo ok bello il petting mi piace altissimo allora quello che faceva la mia professoressa di filosofia e quello che ci diceva la professoressa Leoci lei diceva sempre leggete quello che vi pare ma fatelo cosa vi piace cosa vi ispira vi piace lo sport leggete di sport che cosa il libro sullo sport no la gazzetta dello sport la gazzetta dello sport vi interessa la moda leggete della moda siete pazzi per un calciatore siete pazzi per la vita di un cantante per un film avete visto quel film l'avete visto 50 volte compratevi il libro di quel film perché questo primo consiglio importante perché il leggere una cosa per la quale vai pazzo di per sé ti fa capire quanto è bello leggere perché tu poi cominci a leggere e ti rendi conto che la testa lavora in una maniera completamente diversa da guardare un reel oppure guardare la tv lavora in maniera diversa e allora a quel punto ti viene si dice in Puglia il priscio per la lettura perché quel libro ne tira un altro ne vuoi comprare un altro inizia a diventare un'abitudine quindi questo posso dire ai giovani innanzitutto leggete quello che vi piace perché è inutile dire al giorno leggi il libro di fisica leggi il libro di matematica ma che te frega cioè invece leggete perché vi renderete conto che quella lettura vi porterà un altro vantaggio aumentare la concentrazione questo è un grosso problema lo tiriamo fuori ancora una volta è venuto fuori all'inizio della nostra chiacchierata è molto importante capire che sulla vita propria si investe se si è concentrati anche se si va in palestra per farsi il fisico a proposito di fisici anche per farti il fisico tu devi stare sul pezzo devi seguire il tuo allenamento non puoi essere deconcentra non puoi stare a pensare alla notifica ecco perché la lettura ti educa anche in quello volevo ritornare a una cosa che abbiamo citato all'inizio quando eravamo un po' diciamo nella prefazione rispetto alla tua storia e abbiamo parlato del tuo video più popolare della critica dei colleghi e volevo ritornare lì l'avevamo preso come esempio per entrare nelle insenature emotive di quando qualcosa ti può far soffrire ti toglie la tua solarità perché ti criticano? allora le critiche emergono innanzitutto partiamo da una cosa per i miei capelli mi dicono di andare al parrucchiere e io non vado ok che chiuso già esatto però per i tuoi capelli nel senso che ti vedono un volto come dire esuberante no sono brutti vado al parrucchiere fate un taglio questi capelli non si possono vedere ma che schifo di tutto di più sui capelli quando i miei capelli sono affascinanti meravigliosi e soprattutto che mi sveglio ogni giorno con dei capelli diversi con un'acconciatura differente che è meraviglioso seconda critica che mi fanno sei banale cioè le tue lezioni sono banali quindi non è conoscenza quella che tu diffondi ma è banalità vorrei dire a queste persone così ti faccio il contraltare se io sono così banale come mai mi arrivano centinaia di messaggi a settimana non all'anno a settimana di ragazzi che mi dicono prof grazie ai suoi video io sono passato dal 4 all'8 in fisica grazie ai suoi video ho superato l'interrogazione ho superato il compito ho capito come svolgere un compito di fisica ho superato gli esami università fisica 1 fisica 2 è la cosa più bella che mi dicono sto amando questa materia grazie ai suoi video io prima la odiavo quindi se sono così banale come mai arrivano questi messaggi questa critica sai perché viene fuori perché non vedono i miei video su youtube molte delle persone che mi criticano vedono solo la clip vedono la clip scusatemi in pochi secondi è difficile ovviamente dimostrare qualcosa invece a youtube faccio la mia lezione un'altra critica che mi viene fatta sorridi sempre stai sempre a sorridere e meno male la tua lezione che cos'è sei un pagliaccio e che cos'è il circo la scuola non si può trasformare in un circo ma non è così che funziona la vita noi dobbiamo insegnare sorridendo perché se tu immagini io entro in classe e ti dico ragazzi oggi vi devo spiegare una cosa fighissima di chimica o di storia quando è successa questa cosa che fegato gonfio che gli è venuta Giulio Cesare che brutto quarto d'ora che ha passato cambia tutto cambia tutto perché le persone li tiri dentro cambia tutto raccontami il quarto d'ora di Giulio Cesare che sono contento cioè cambia tutto ma non è un ridere è un essere sereni nello spiegare la propria materia e ripeto quel famoso 99 dice prof sì così però queste sono maggiormente le critiche che mi vengono mosse io chiuderei facendo un'ultima domanda visto che hai appunto quattro segmenti di vita perché mi hai ricordato prima la scrittura cosa desideri veramente che si configuri nella tua vita prossimamente che persona vorresti essere difficilissimo rispondere perché io sono è il mio corpo che cambia la mia mente che cambia direbbe Pelu ed è così punto e basta sì sì sono in continuo movimento mi piacerebbe riuscire ad essere quello che Piero Angelo è stato per la scienza essere per la scuola ispirare un cambiamento gentile dal basso vero perché la scuola lo merita perché la scuola è fatta da tante persone tanti docenti che con quattro soldi fanno il loro mestiere fanno un mestiere molto importante fanno un mestiere molto delicato lo fanno con quattro soldi in mezzo a tutta una serie di problemi non meritano di continuare ad essere in una scuola schiacciata burocratica triste monotematica che va sempre in una direzione che non riesce a dare il vero cambiamento mi piacerebbe ispirarlo quel cambiamento gentilmente dal basso perché so che molti colleghi la desiderano questa cosa capito lo vogliono questo cambiamento io farò tante cose nei prossimi anni io sono convinto però a questo ci tengo secondo me delle ottime capacità oratorie quindi a prescindere dalla tua verticalità che è la fisica hai detto bene Piero Angela tu potresti parlare di storia sei talmente appassionato di una cosa che diventi appassionante quando la trasmetti quindi io sento veramente che tu ce la possa fare in quella direzione io credo che la bassa soglia di attenzione del nostro paese ha bisogno del tuo modo di raccontare le cose questo mi piacerebbe far mi piacerebbe ispirare quel tipo di cambio di attenzione che la scuola merita ma perché lo meritano i ragazzi cioè lo meritano i ragazzi perché in un mondo che è completamente distratto dalla rete io ho paura che perderemo un pezzo di questa generazione di giovani che altrimenti si rendere a conto dopo vent'anni che peccato che non ho puntato su me stesso che peccato che non ho spinto di più noi siamo responsabili noi dobbiamo far spingere loro di più ed educarli a studiare di più però non lo puoi far dicere studi 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 leggi leggile perché non lo faranno mai invece questo alzare la sua di attenzione sai che bello come diventerebbe bello all'interno di una scuola lo cambierebbe veramente tutto però questo avverrà piano piano e io sogno che questo possa avvenire anche attraverso quello che farò io abbiamo finito grazie mille a te vi ringrazio vi ringrazio per essere arrivati fin qua fino alla fine di questo episodio che spero vi abbia restituito stimoli delle belle vibes vi siate identificati medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere per poter andare avanti per poter cadere meglio qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato buona visione grazie